Costruire un sistema metropolitano integrato per il turismo attraverso l'ampia integrazione degli operatori culturali e turistici dell'area metropolitana composta da 41 comuni. E' il progetto Terra di Bari Guest Card. Mettere a sistema l'offerta culturale della città metropolitana di Bari attraverso uno strumento in grado di facilitare la fruizione dell'offerta turistica del territorio intercettando all'origine le esigenze della domanda. Presentato presso l'Urban Center di Bari il bando di gara per la gestione delle terre di Bari Guest Card. L'obiettivo è costruire un sistema metropolitano integrato per il turismo in grado di offrire al visitatore flessibilità, facilità e completezza dell'offerta attraverso l'ampia integrazione degli operatori culturali e turistici dell'area composta da 41 comuni. Tanti servizi in un unico biglietto che da una parte agevolerà i turisti fornendo loro una chiave di accesso privilegiata ai beni culturali e ai servizi turistici e di trasporto dall'altra fornirà uno strumento in grado di aumentare il livello e la qualità dell'accoglienza monitorando costantemente i flussi turistici per stabilire le future azioni migliorative dei servizi anche in relazione ai target dell'utenza. Noi nel rispetto delle forti identità dei tanti dei 41 campanili che raccolgono si raccolgono intorno a come a corolla diciamo di questa nostra città metropolitana abbiamo la necessità di stimolarli stimolarci tutti a ragionare in ottica integrata di rete e lo facciamo con la Bari Guest Card cioè uno strumento che consentirà al turista di accedere al consumo turistico senza porsi il problema di chi è un tale attrattore ma conoscendo al meglio il territorio attraverso gli strumenti di comunicazione di marketing che la Bari Guest Card consentirà di apportare al turista e insieme anche di vendere meglio le proprie risorse.